Oltre a non essere presente nella chat di gruppo di Suits, Meghan Markle, è stata brutalmente derisa dalla conduttrice Jokoi ai Golden Globe Awards. Il recente Golden Globes Award 2024, ha visto alcuni dei nomi più famosi di Hollywood riuniti in un unico edificio per celebrare i loro successi nel cinema e in televisione. Tuttavia, il comico Jokoi, che era un ospite sostitutivo dell'ultimo minuto per l'evento, ha deriso il duca e la duchessa di Sussex, così come la famiglia reale. Questo rappresenta l'ultimo imbarazzo per la coppia che, secondo quanto riferito, stava pianificando un rilancio di Hollywood. Durante il monologo, Joe ha preso di mira anche la famiglia reale, ricca, bianca e disfunzionale, ha detto, Succession a nove nomination. Solo una grande serie su una famiglia ricca, bianca, disfunzionale, tutta intrigante o, aspetta, quello è The Crown. Mi dispiace. Ferri e Meghan Markle sono stati pagati milioni per non aver fatto assolutamente nulla, ha detto Koi, aggiungendo, e questo è solo da Netflix. Oltre agli altri Alisters, tra il pubblico c'erano anche gli ex co-protagonisti di Meghan in Suits, inclusa la star di Jessica Pearson, Gina Torres, che ha rivelato che il Royal non era nella loro chat di gruppo. Ciò è avvenuto dopo la notizia secondo cui Meghan, che ha lasciato lo show prima di sposare il principe Ferri, era in colloqui avanzati su un massiccio ritorno televisivo nel suo prossimo spin-off. Tuttavia, durante il Red Carpe dei Golden Globes, l'attrice ha spiegato che il suo ex collega non è coinvolto nel gruppo di messaggistica, Folle.